Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che vuole essere rilassante, o almeno spero che lo sia, poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se è così. E' un video integrale della prima pappa di questa cucciola di chihuahua di 30 giorni, che ovviamente avendo iniziato lo svezzamento, che già camminava bene, stava bene in piedi da sola, era pronta a mangiare da sola senza alcun tipo di aiuto da parte mia. Per qualsiasi informazione per quanto riguarda la piccolina potete scrivere sui miei social Facebook Giulia Pilli, Instagram Pilli Giulia e sulla mail giuliapilli-limpero.it è una chihuahua con pedigree, enzui e tutti i vari documenti. Per qualsiasi informazione, ripeto, scrivetemi in privato. Adesso io voglio lasciarvi al video, alzate il volume e ascoltate come mangiucchia la piccolina, perdonate qualche colpo di tosse, qualche abbaio quella. E niente, vi lascio al video. E niente, vi lascio al video. E niente, vi lascio al video. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti